Attenzione, treno in transito al binario 2, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in transito al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in transito al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in transito al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla. il treno è disponibile in servizio di ristorazione per agevolare l'accesso al treno invitiamo i viaggiatori a discorsi lungo il marciapiede in base alla posizione il treno è arrivato a Platt 1, per favore, per favore, per favore, per il treno è arrivato a Platt 1 Grazie a tutti. Grazie a tutti.